E dunque dopo oltre due settimane in sua compagnia sono finalmente pronto a parlarvi di Asus ROG Lai, in assoluto il dispositivo più interessante di tutto il mondo gaming nel 2023 e certamente uno dei dispositivi più interessanti in assoluto nel mercato dell'elettronica di consumo. Non perdiamoci però in chiacchiere e cominciamo subito a parlare della parte costruttiva che è chiaramente una parte molto importante trattandosi di fatto di una console portatile. Ora per la scocca Asus ha scelto il policarbonato, quindi la plastica, questa colorazione bianca che secondo me è molto ben riuscita anche grazie al contrasto con il display, con il pannello che è incastonato all'interno di questa scocca. Asus ha posizionato poi questa finitura ruvida, zigrinata, ecco potremmo definirla, proprio nei punti in cui si va ad impugnare Asus ROG Lai, proprio come avviene con i joypad delle console e in più tutti i pulsanti sono stati posizionati proprio dove vanno a finire le dita impugnando in maniera assolutamente naturale la console, per cui le levette analogiche, i pulsanti, le levette superiori e posteriori, insomma tutti questi pulsanti fisici sono perfettamente raggiungibili con le dita. La console pesa 608 grammi, per cui non è certamente un peso più, ma però tutto sommato è un peso che anche utilizzando ROG Lai, come dire, per lunghe sessioni di gaming non stanca, per cui da questo punto di vista il lavoro di Asus è stato assolutamente convincente. Peraltro bisogna segnalare come sulla parte superiore ci sia il jack audio da 3,5 mm, ci sia un lettore per le schede microSD che però, devo dire, mi sono ritrovato ad utilizzare molto poco, ci vogliono degli standard molto elevati di microSD per evitare appunto che ci siano problemi poi nell'esecuzione dei videogiochi, il lettore risupporta, però insomma non è semplicissimo poi avere a disposizione queste microSD, per cui onestamente l'ho trovato più che altro comodo come una sorta di espansione di memoria, più che una memoria, chiamiamola esecutiva, come può essere poi l'SSD che è stato montato internamente. Ci sono poi ovviamente sulla parte superiore anche le griglie di areazione che in qualche modo buttano fuori da roguellai il calore che, come vedremo, si genere ed è assolutamente percepibile attraverso questa console e infine c'è il pulsantino per l'accensione che peraltro implementa anche un lettore per le impronte digitali che permette poi di autenticarsi in Windows 11 attraverso i sistema Windows Hello e devo dire che funziona decisamente molto bene. Dunque il concetto di trasportabilità rimane assolutamente intatto, ASUS è riuscita decisamente nel suo intento nonostante abbia comunque implementato un display molto grande da 7 pollici ed è certamente il secondo punto di cui ci andiamo ad occupare perché poi capite bene che insomma questo display rappresenta un elemento attorno a cui va a ruotare l'esperienza utente di questa roguellai. è un pannello con risoluzione di 1920x1080 quindi stiamo parlando di una risoluzione full HD, peraltro si tratta di un pannello in grado di raggiungere i 120 Hz come frequenza d'aggiornamento e con una luminosità di picco di 500 nit. Ora di per sé è un buon pannello, è chiaro che un pannello OLED o un pannello AMOLED avrebbe consentito come dire dei contrasti decisamente più marcati e questo avrebbe avuto inevitabilmente un riflesso positivo proprio durante l'esecuzione dei videogiochi però vi posso dire che è un pannello assolutamente godibile, molto buoni di angoli di visuale e questo è un aspetto importante perché chiaramente spesso ci si trova ad inclinare la console per videogiocare pensiamo ad esempio ad un gioco come Forza Horizon 5 che è uno dei tanti titoli che ho testato con roguellai ma insomma è un display che comunque complessivamente mi è piaciuto, le cornici attorno sono comunque abbastanza pronunciate ma era inevitabile considerando il particolare form factor di questo dispositivo. La luminosità di 500 nit non è un dato incredibilmente elevato e infatti devo dire che durante le giornate particolarmente assolate ci può essere qualche problemino di visibilità all'aperto ma nulla di particolare perché davvero in quelle che sono le giornate normali quindi non necessariamente con il sole che batte direttamente sul pannello insomma vi posso dire che questa roguellai è assolutamente utilizzabile anche all'aperto per cui mi sento decisamente di promuovere anche il display. E veniamo dunque al succo di questo test vale a dire la piattaforma hardware e di conseguenza quella che è l'esperienza con i videogiochi con questa roguellai. Dunque innanzitutto vi ricordo che il cuore pulsante di questa console portatile è il processore Xtreme Z1 di AMD realizzato ad hoc dall'azienda proprio per roguellai peraltro abbinato a 16 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di SSD. Ora voi avete un po' imparato a conoscermi e anche a conoscere il taglio che ho deciso di dare a questo canale per cui non mi lancerò nel fare benchmark numeri su numeri perché onestamente li trovo abbastanza inutili in alcuni contesti. Vi voglio però raccontare quella che è stata l'esperienza di gioco con questa roguellai perché bisogna sottolineare che a bordo c'è Windows 11 e come dire fra un po' vi racconterò quello che dal mio punto di vista rappresenta un limite di questa roguellai cioè proprio il sistema operativo in alcuni ambiti però è chiaro che avendo Windows 11 qui è possibile utilizzare tanti servizi da cui poter poi effettivamente scaricare videogiochi Steam, Xbox, Game Pass ma davvero potrei andare avanti all'infinito per cui chi ha abbonamenti a questi servizi potrà serenamente sfruttarli attraverso roguellai. Ora ho provato tantissimi videogiochi e devo dire che l'esperienza con roguellai dipende fondamentalmente da due fattori. Il primo è la risoluzione che andiamo ad impostare chiaramente nelle sessioni di gaming e in secondo luogo il fatto che roguellai sia o meno alimentato con chiaramente l'elettricità quindi con la presa elettrica e adesso vi racconterò perché. Ora dal mio punto di vista considerando la diagonale dello schermo da 7 pollici sono convinto che possa aver senso soprattutto con i titoli più impegnativi far scendere la risoluzione e quindi posizionarsi in HD quindi a 1280x720. Nel momento in cui facciamo questa scelta e abbiamo roguellai alimentata con la batteria quindi non collegata alla presa elettrica noi avremo anche con i videogiochi più impegnativi da Cyberpunk 2077 a FIFA 23 a Forza Horizon 5 insomma ne ho provati davvero tantissimi avremo un'esperienza di gioco comunque in alta definizione appunto in HD e soprattutto avremo gli fps che si posizioneranno attorno ai 50 50 barra 60 in realtà insomma difficilmente si toccano 60 fps nel momento in cui abbiamo appunto roguellai alimentata con la batteria però diciamo che ci posizioniamo in maniera tranquilla sui 50 fps anche con i titoli più impegnativi e devo dire che è un piccolo miracolo avere questi videogiochi che girano con questo numero così elevato di fps su una console portatile era un qualcosa di inimmaginabile fino a qualche tempo fa chiaramente questi fps poi salgono stabilmente ai 60 nel momento in cui alimentiamo roguellai con l'elettricità per cui si riesce serenamente ad utilizzare Cyberpunk 2077 a 60 fps con roguellai appunto alimentata dalla presa elettrica e anche qui un piccolo davvero miracolo da parte di Asus chiaramente che succede nel momento in cui scegliamo di videogiocare in full hd inevitabilmente con la batteria gli fps scendono e con videogiochi come Cyberpunk 2077 o forza Horizon 5 ci si posiziona tra i 20 e i 30 fps ovviamente nel momento in cui scegliamo di videogiocare in full hd e siamo alimentati con la presa elettrica diciamo che si possono raggiungere i 30, 35, 40 fps poi dipende chiaramente dal titolo complessivamente però vi sto raccontando di un'esperienza utente a prescindere dall'utilizzo, a prescindere dalla risoluzione assolutamente assolutamente godibile e questo processore Z1 Extreme è davvero un piccolo miracolo ingegneristico sia per come è stato progettato da AMD ma soprattutto per come è stato implementato da Asus ora è chiaro che stiamo parlando di una console che comunque si riscalda perché lo spazio nella scocca quello è c'è ovviamente un sistema di dissipazione le ventone lavorano, si sentono, si percepisce il calore che chiaramente viene fuori dalle gridi e posizionate in alto però insomma nulla che crei fastidio soprattutto perché si va a riscaldare anche lo schermo schermo che peraltro vi ricordo è touchscreen però alla fin dei conti ci si ritrova ad interfacciarsi con Roguelive fondamentalmente con le levette analogiche o con i pulsanti per cui il fatto che lo schermo si riscaldi non crea particolari fastidi in più poi bisogna sottolineare come Roguelive abbia a disposizione anche una sorta di modalità desktop perché? perché c'è la porta USB-C per la ricarica che però è anche una porta Thunderbolt 4 per cui possiamo come dire ad esempio collegare Roguelive ad un monitor esterno viene spento il monitor di Roguelive e Roguelive va poi ad alimentare o meglio viene alimentata dal monitor USB-C ma va a proiettare chiaramente il proprio desktop direttamente sul monitor e quindi abbiamo poi una sorta di console fissa e devo dire che anche nella gestione dei monitor esterni riesce serenamente a tenere botta senza particolari rallentamenti durante le sessioni di gioco peraltro questa fessura che vedete accanto alla porta USB-C è il connettore per il modulo XG Mobile di Asus cioè questo modulo che permette di aggiungere una vera e propria scheda grafica desktop fissa a Roguelive peraltro è un modulo che abbiamo visto anche con alcuni modelli di laptop Asus per cui c'è davvero la possibilità di trasformare Roguelive in una vera e propria console fissa desktop con cui videogiocare comodamente a casa per cui anche questo è un aspetto non da sottovalutare insomma devo dirvi che l'esperienza in gaming è davvero soddisfacente mi è piaciuto un sacco, mi sono divertito un sacco e poi ci sono possibilità infinite perché con tutti i servizi che è possibile utilizzare su Roguelive è davvero impossibile annoiarsi veniamo adesso alla parte software che come detto è affidata a Windows 11 Windows 11 che se da una parte rappresenta sicuramente un punto di forza perché poi permette di utilizzare tutti i servizi di cui vi ho parlato come un qualsiasi computer dall'altra parte è un po' un punto debole di Roguelive perché la realtà è che Windows 11 non è stato ottimizzato per il display touchscreen e questa è una vecchia storia per cui l'interfaccia di Roguelive in questo display da 7 pollici è davvero macchinosa da utilizzare poi con le dita per cui si finisce fondamentalmente per utilizzarla con le levette analogiche in più poi come dire la riduzione d'icona dei videogiochi che magari abbiamo avviato insomma tutto ciò che ruota anche attorno all'avvio dei titoli non è un qualcosa di comodissimo da gestire con Windows 11 ed è un peccato perché ovviamente poi questi limiti di Windows 11 con form factor così particolari spingono ad utilizzare Roguelive fondamentalmente solo per videogiocare nonostante in realtà abbia le potenzialità per poter essere utilizzata come un piccolo computer perché lo ripetiamo con Windows 11 voi avete a disposizione proprio il desktop la schermata desktop a cui siete abituati con il sistema operativo di Microsoft per cui potreste navigare su internet potreste utilizzare YouTube, i servizi di streaming insomma da questo punto di vista è un po' castrata dal sistema operativo un peccato perché peraltro ha anche un buon comparto audio che va a coadjuvare il display grazie a due altoparlanti stereo posizionati sulla parte frontale che devo dire si sentono anche bene e quindi eventualmente anche nella fruizione dei contenuti multimediali come dire in mobilità insomma questa è una console che poteva un dispositivo che poteva certamente dire la sua e chiudiamo il video con la parte legata alla batteria devo dire probabilmente l'aspetto che convince meno di questa Roguelive sotto la scocca abbiamo una batteria da 40 wattora e quindi già di per sé si preannunciava una autonomia non così esaltante ma in realtà devo dire che poi con l'utilizzo effettivo ci si rende conto di come videogiocando come dire con un titolo impegnativo con un titolo AAA è possibile avere un'autonomia che scende anche al di sotto dei 60 minuti quindi meno di un'ora di autonomia poi per carità ci sono mille variabili c'è la possibilità di scegliere fra diverse modalità c'è una modalità che chiaramente spinge di più il processore però al di là di questi dettagli la realtà è che non è un dispositivo in grado di offrire in gaming una durata della batteria di 4, 5, 6 ore quanto magari potrebbe durare un viaggio in aereo magari un viaggio in autobus o in treno insomma si va un po' a perdere quel concetto di trasportabilità che dovrebbe effettivamente caratterizzare Roguelive in maniera importante c'è la possibilità chiaramente di ricaricarla con la porta USB-C c'è il caricabatterie incluso in confezione la ricarica è anche abbastanza veloce però ecco purtroppo l'autonomia è certamente un aspetto deficitario in questa Roguelive ed è un peccato e la speranza chiaramente è che con le prossime generazioni si possa riuscire a compiere un salto in avanti importante da questo punto di vista e dunque servono 799 euro per portarsi a casa questa versione di Roguelive già disponibile sul mercato italiano sono tanti, sono pochi sicuramente possiamo dire che Roguelive è un prodotto semplicemente senza rivali si Steam Deck ha aperto un po' questo particolare segmento offre una maggiore autonomia ma una potenza assolutamente non paragonabile a Roguelive Nintendo Switch è stata la prima diciamo come console in generale a puntare su questo concetto di mobilità ma su Nintendo non ci girano i giochi, i titoli AAA ma girano i giochi Nintendo con tutta quella filosofia che poi chiaramente ha in qualche modo rappresentato la base del successo dell'azienda nipponica ma siamo chiaramente su piani differenti Roguelive apre di fatto un nuovo segmento Asus ha fatto un lavoro strepitoso ci sono come vi ho raccontato nel corso della recensione tanti piccoli dettagli che potevano essere migliorati su cui ci si poteva come dire concentrare di più penso ad esempio come dire alla possibilità di includere in confezione una custodia per il trasporto per un prodotto di questo tipo insomma ci sono tanti aspetti da poterlimare il vero punto però è che finalmente abbiamo una console portatile che permette di videogiocare ai titoli AAA in mobilità con una qualità che fino a qualche tempo fa era assolutamente impensabile per un dispositivo mobile e quindi da questo punto di vista Asus ha assolutamente raggiunto il suo obiettivo è onestamente un dispositivo che mi sento di consigliare ad occhi chiusi a tutti gli appassionati di gaming magari in questa fase diventa un dispositivo più da divano ecco passatemi il termine o magari per brevi tratte però insomma comunque raggiunge il suo scopo cioè consentire di videogiocare in mobilità ai titoli AAA io vi inserisco in descrizione il link alla recensione scritta che ho realizzato per correre dalla serie in cui trovate anche gli scatti in originali di questa Asus Rogue and Lie fatemi sapere nei commenti se avete dubbi o domande perché mi confronto sempre molto volentieri con voi io per oggi ho concluso e noi ci vediamo nei prossimi giorni